Luglio nel segno della cultura, è l'estate in cui 90 Vicentina spera di lasciarsi alle spalle definitivamente i dolori e le clausure del Covid. Ora si guarda avanti, adesso si torna in piazza, si torna a vivere. Grandi protagonisti il cinema e il teatro in un palcoscenico di grande bellezza come il parco di Villa Carnaldi. Abbiamo diviso praticamente la settimana in due momenti di ritrovo nella stessa location che è ovviamente il parco di Villa Carnaldi, il martedì sarà dedicato al cinema e mentre il venerdì sono i venerdì del teatro, quindi insomma due momenti della settimana in cui la cultura vede Carnaldi lo scenario ideale. Quest'anno avremo una rassegna teatrale guidata dal fil rouge del thriller, pertanto gli spettacoli coinvolgeranno il pubblico alla ricerca dell'assassino in un crescendo appunto di suspense che si risolverà solo alla fine dello spettacolo. Mentre la rassegna cinematografica è pensata per le famiglie perché i film sono dedicati a un pubblico di bambini e di ragazzi. La rassegna teatrale punta a portare in scena compagnie di livello per spettacoli di qualità incentrati sul mistero. Una casa di pazzi, un cadavere troppo ingombrante, otto donne e un mistero che è famoso anche il film, è una commedia di Roberto Man francese, dunque tutte incentrate sul mistero, ma sarà divertente. Ad aprire il luglio di 90 sarà un concerto tenuto dal coro Amici della Musica di Barbarano Vicentino, diretto dal maestro Antonio Zefiro. Il primo di luglio apriremo con una serata musicale, è un po' una novità, però una serata musicale in cui verranno presentate delle musiche da film e quindi siamo sempre nell'ambito di musica e spettacolo. 90 Vicentina vi aspetta soprattutto il mese di luglio con delle attività culturali importanti, ma soprattutto vi aspetta il nostro comune che da sempre accoglie i visitatori, ma vuole essere ulteriormente propositivo per un pubblico sempre più vasto.